Ciao ragazzi bentornati o benvenuti su Best Your Life. Oggi finalmente dopo un po' di foto e un po' di anticipazioni posso spiegarvi nel dettaglio quella che è la mia pedaliera dal 2024 in poi e per sempre. Sorrido perché sappiamo tutti che il termine è per sempre e poi quando parliamo di effetti è sempre una cosa un po' la diciamo un po' per scherzo però effettivamente in questa pedaliera c'è tantissima progettazione ed è il motivo per cui appunto ve ne parlo perché non tanto perché mi interessa raccontarvi di come è fatta la mia pedaliera ma perché ci sono diverse informazioni che sono certo comunque vi potranno tornare utile vi potranno far riflettere su alcuni passaggi che magari veramente vi possono essere utile nella realizzazione della vostra pedaliera naturalmente prima di iniziare questo percorso che sarà un po' lungo perché è una spiegazione comunque che richiederà un po' di tempo e vi ricordo che è importante iscriversi al canale di Best Your Life attivare la campanellina e se volete potete anche sostenere tramite un abbonamento che ha il costo di un caffè e un cappuccino al mese. Detto questo non mi resta che lanciare la sigla e poi cominciamo questa spiegazione e questa serie di consigli che non vedo l'ora di tardi. Quindi, sigla! Allora ragazzi partiamo subito facendo uno spoiler diciamo quindi vi dico già come va a finire la cosa. Non vi farò sentire come suona la pedaliera. Dici ma per quale motivo? Mi parli della pedaliera e non mi fai nemmeno sentire come suona? Sì perché la realizzazione dei suoni e i suoni che io utilizzo non sono importanti al diciamo per spiegare questo discorso. Sono cose personali o magari utilizzo dei suoni che a qualcuno può piacere a qualcun altro no ma oggi quello su cui ci concentriamo non è il suono del basso e come magari posso creare un determinato tipo di effetto ma è come sono arrivato a costruire questa pedaliera e perché secondo me questa pedaliera ha delle caratteristiche uniche e dal mio punto di vista si presenta in maniera perfetta per qualsiasi tipo di lavoro sia che sia live sia che sia in studio e quindi già ho risposto a una prima domanda che mi veniva fatta nei miei profili social ovvero ma questa pedaliera tu la usi sia dal vivo che studio? Sì questa pedaliera è progettata per fare tutto è progettata per fare tutto andare ovunque in treno in aereo in pulmino naturalmente portata a mano eccetera eccetera quindi ci sono diverse cose di cui vi voglio parlare ma iniziamo seguendo un po' un percorso logico che è quello che io ho fatto quando ho realizzato la pedaliera ovvero mi sono posto delle domande a che cosa mi serve quando la devo utilizzare come posso fare per ottimizzare tutti tutte le tipologie di lavoro che ho ok quindi mi sono dato una sorta di roadmap di cose di cui tener conto ok al primo punto anche se può sembrare strano lo so al primo punto ho tenuto la logistica ovvero per la tipologia di lavoro che svolgo mi trovo molto spesso a dover viaggiare sia in italia che all'estero quindi per me è fondamentale il fatto di poter trasportare la pedaliera in tutti i contesti in cui mi trovo a viaggiare quindi in treno ad esempio o in aereo o vabbè la macchina la cosa più comune in assoluto anche se poi dobbiamo tenere presente che nella macchina non è che ci possiamo mettere tutto quindi il discorso del ottimizzare gli spazi e ottimizzare la logistica per chi comunque si trova per lavoro anche per hobby per passione a viaggiare spesso con la musica è una cosa fondamentale è una cosa di cui non possiamo non più tener conto 15 anni fa 20 anni fa penso un po' tutti avevamo le belle pedaliere con i fly case in alluminio 80x60 che erano praticamente degli armadi enormi ecco quelle cose non funzionano più non esistono più perché è cambiato la modalità con cui ci si sposta e la modalità anche con cui si assemblano determinate pedaliere quindi sicuramente la logistica è stato il mio primo pallino quindi fammi un attimo capire come posso ottimizzare questi tre pedali che utilizzo e far sì che la mia pedaliera non sia ingombrante non sia pesante non sia difficile da movimentare come ci sono riuscito ecco l'informazione la prima informazione utile che mi sento di darvi nel cercare di capire quali fossero gli ingombri ho scoperto il configuratore della rock board che mi ha aiutato a progettare anticipatamente quella che la mia pedaliera io non ho fatto altro che registrarmi al sito creare un mio account e andare a inserire in questo configuratore i pedali di cui disponevo naturalmente ognuno poi naturalmente ai propri pedali nel mio caso ad esempio il vintage pre della mark bus non era presente nei pedali disponibili quindi che cosa ho fatto l'ho creato io me lo sono creato ho preso le misure dal sito della mark bus ho ricomun diciamo ho creato tutti i collegamenti di alimentazione di segnale e quando sono andato a fare la progettazione della pedaliera ho potuto vedere in anteprima come sarebbe stato e quale sarebbe stato l'ingombro e questa cosa è fondamentale perché si evitano errori di progettazione di realizzazione ma soprattutto di ordine quindi se io so esattamente di cosa ho bisogno prima non ho bisogno di andare un po a spanne lo so posso vedere tutto nel dettaglio addirittura posso vedere in base a quella che è la mia idea di collegamento no e di utilizzo della pedaliera quanti cavi ho bisogno di quali lunghezze perché il configuratore vi dice vita morti e miracoli naturalmente vi consiglio di provarlo anche semplicemente per sperimentare per giocarci un po sopra e vi lascio il link in descrizione a questo video ok che cosa ho fatto ho progettato la mia pedaliera tenendo conto poi naturalmente inserirò delle immagini delle foto anzi forse le state già vedendo della mia pedaliera la cosa molto importante è che ad esempio ho capito che avevo bisogno di un modulino che mi consentisse di creare dei collegamenti in maniera più agevole per tenere tutta la parte superiore pulita e ottimizzare anche l'alimentazione quindi alla mia pedaliera ho aggiunto quello che viene chiamato modulo in questo caso il modulo numero uno fatta questa progettazione online sono arrivato all'ordine e quindi ho ordinato tutti i pezzi che mi servivano e la cosa interessante è che quando arrivato non ho dovuto fare altro che montarlo perché era già tutto a posto quindi è stato veramente un processo molto facile da realizzare passiamo quindi adesso alla spiegazione del motivo per cui ad esempio questa è un'altra osservazione che mi è stata fatta quando ho postato le prime foto e qualcuno mi ha detto ma perché utilizzi un modeler come viene chiamato la neural quad cortex e il vintage pre quindi perché utilizzi un modeler che può fare anche il lavoro di questa macchina a che ti serve cioè che senso ha perché lo fai allora è molto chiaro nel senso ci sono molto chiaro per me adesso cerco di chiarirlo a tutti quanti ovvero il principio base è questo io sono molto curioso quindi sostengo lo sviluppo del digitale mi piace mi incuriosisce penso che abbia delle ottime diciamo potenzialità ma comunque ho sempre un po quel timore derivando proprio da un'esperienza con i pedali analogici un po come tutti che è un computer e come tutti i computer ogni tanto potrebbe bloccarsi potrebbe spegnersi potrebbe non funzionare quindi perché mi devo mettere in una condizione in cui rischio di trovarmi in difficoltà ok questo è il primo motivo quindi ho messo a disposizione del mio segnale anche il vintage pre ma non è solo questo il motivo quindi il primo motivo è una sorta di di i spare che mi serve per sicurezza ok per essere sicuro che sostanzialmente il qualora la neural quad cortex non dovesse funzionare o comunque subito pronto e già cablata tramite naturalmente uno split che vi faccio vedere dopo il vintage pre e questo è in un'ipotetica condizione da live ma per chi magari un po' più dentro anche al discorso delle registrazioni ad esempio sapete benissimo che quando si registra un basso elettrico almeno almeno vengono presi due segnali quelli che vengono chiamati il dry e il wet il dry non è altro che il basso nudo e crudo che viene infilato all'interno di una di ai e da lì viene ripreso il segnale il wet invece è il basso che fa tutta la sua catena di segnale e poi praticamente arriva direttamente al diciamo in fase di registrazione questo sistema funziona esattamente così funziona ipotizzando lo studio diciamo l'utilizzo in studio ovvero il mio basso entra tramite questo diciamo questo modulino all'ingresso a vi dico anche il nome dell'ingresso viene splittato e vi faccio vedere come viene il segnale viene splittato tramite questo pedale che vedete qui dietro di me che è il lp split ok che io ce l'ho di qua ok il segnale viene splittato in due segnali che viaggiano parallelamente uno finisce direttamente dentro il mio neural dentro il quad cortex e qui avrò il segnale wet l'altro finisce direttamente dentro il vintage pre e qui ho il mio segnale dry quindi quando io vado a registrare già in contemporanea ho due segnali che io posso prelevare mandare all'esterno tramite due uscite tramite un'uscita che si trova qui che è l'uscita numero out 1 l solitamente utilizzo quella e in più rilanciando tramite questo cavetto che mi son fatto posso utilizzare l'altra uscita xlr che è nel mod 1 e ho in contemporanea già due cavi due segnali bilanciati che vanno a eventuale scheda audio o eventuale pa quindi in un colpo solo splittando i segnali ho già due segnali un dry e un wet quindi ho uno strumento con due segnali ma non è finita qui l'altra cosa interessante come può essere utilizzato anche il neural ovvero mi dà la possibilità di poter suonare due strumenti contemporaneamente quindi sempre tramite il modulino ho fatto un link e sono andato direttamente all'ingresso numero 2 questo per quale motivo perché se io ad esempio sono un bassista che suona pop rock oppure magari utilizzo un contrabbasso elettrico utilizzo un synth io posso entrare direttamente nel mio neural utilizzare l'altra uscita di ai che in questo caso si chiama out 2r e al tempo stesso utilizzare sempre dalla neural la stessa uscita amplificatore quindi immaginiamoci in una situazione live io suono in un tributo a michael jackson devo suonare parti di basso e parti synth io ho già tutto qui perché posso entrare nell'ingresso numero 1 col basso elettrico nell'ingresso numero 2 con il synth tutti i due segnali vengono mandati o eventualmente tre segnali vengono mandati al pa ok e ho tutti i segnali separati e tutti funzionano in maniera perfetta ma all'uscita l'amplificatore sarà sempre una o eventuale all'uscita in ear se utilizzo in ear e non utilizzo l'amplificatore perché questo sistema naturalmente mi dà la possibilità di poter lavorare in maniera ottimale anche in silent stage che è una cosa particolarmente diffusa soprattutto appunto ritornando a quello che dicevo all'inizio quando ci sono problemi di logistica quando pure l'artista vuole un palco muto quindi dipende sempre dalle condizioni di lavoro ma in questo caso io le posso affrontare tutte perché posso utilizzare il silent stage posso utilizzare il loud stage posso utilizzare posso registrare contemporaneamente con due segnali posso uscire con tre segnali quindi posso fare tante cose posso fare tante cose e il tutto in una pedaliera che ha una lunghezza di 50 centimetri più o meno per 25 26 dopo le misure esatte ve le do che è il rock board il 3 3.2 quindi in questo sistema posso veramente fare tante cose mi sono anche permesso di avere il lusso di utilizzare un pedale di espressione che posso utilizzare come pedale del volume come controllo per il guà naturalmente poi tra l'altro questo pedale che è il boss ev 30 se non sbaglio esatto sono andato a vedere per sicurezza mi dà la possibilità di avere due segnali di espressione quindi posso utilizzare quel pedale in due modi differenti vedete che ho veramente una marea di possibilità l'altra cosa che mi interessa farvi vedere è quello che vedono i fonici diciamo al di là della personalizzazione faccio una parentesi vedete che io sono molto attento a personalizzare le mie cose mi piace quindi mi sono fatto fare questi topper praticamente per la neural e vi poi vi metto in descrizione da chi magari andarli a prendere tra l'altro questi hanno dimensioni differenti quelli che sono alla base sono più piccoli quelli che sono sopra sono più grandi proprio per il discorso che ci arrivo con il piede in maniera più semplice questi che cambiano le patch sono diversi questo che arriva attiva il mute è diverso e allo stesso modo ad esempio evidenziato i miei cavi di segnale con delle viti colorate proprio per non sbagliare il collegamento sono un po' diciamo attento a queste cose ma la cosa che vi voglio far vedere proprio come si presenta frontalmente se ci fate caso praticamente una volta che io ho cablato tutto ok non mi resta che far sì che i cavi entrino in maniera frontale da questa zona qui anche l'alimentazione che entra qui e l'xr xlr quindi cavo bilanciato che esce dal vintage pre sono tutti collegamenti frontali io sulla macchina non vado più che vuol dire che mi evito anche la possibilità di avere delle rotture di avere dei crash magari ci passo sopra o il cavo si stacca leggermente è tutto collegato qui davanti quindi ad esempio il mio segnale a non è altro che l'ingresso jack poi ho la c che è il canale numero 2 e poi ho la e che è l'ultimo qui in fondo che è la mia uscita amplificatore ok poi ho il cavo bilanciato la diciamo la presa di corrente e il cavo bilanciato per per il vintage pre vedete che è tutto molto 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 pulito e lo vedete anche qui lo vedete anche nei collegamenti perché sono riuscito a separare tutte le aree della pedaliera nella maniera migliore possibile quindi c'è la parte dove ciò gli alimentatori come potete vedere è praticamente quasi vuota e non c'è nessuna ciabatta perché grazie al modulino numero uno che questo qui mi sono creato un cavo di ca in realtà non l'ho fatto io l'ha fatto un ragazzo che saluto che ringrazio che è giacomo gori che mi ha fatto due cavi nello specifico e uno è proprio questo di alimentazione che non ha fatto altro che prendere gli alimentatori unirli in un unico diciamo in un'unica presa e non ho nemmeno più bisogno di utilizzare le alimentazioni o di utilizzare scusate di utilizzare eventuali ciabatti all'interno quindi sono andato a liberare tutto quello che è lo spazio e ma soprattutto non mi porto delle ronze ok e invece questa è la zona dove tengo lo il lp split vedete che è tutto molto molto pulito perché insisto su questo discorso della pulizia perché spesso quando i cavi di segnale passano vicino ai cavi di alimentazione si creano delle ronze tra l'altro nella rock board noi abbiamo la possibilità di poter far passare sotto queste barre quindi svitando e alzarle direttamente i cavi ed è una cosa estremamente pulita ok quindi che cosa dire io sono particolarmente contento di questa soluzione anche perché è una soluzione che io ho cercato come dicevo mi sono dovuto interrogare su quello che veramente mi serviva e poi successivamente sono andato a trovare le mie informazioni fortunatamente ho trovato il configuratore della rock board e sono riuscito a preparare tutto in maniera ottimale senza sprecare un euro e l'ho fatto tutto in maniera molto 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 pulita ed estremamente funzionale perché adesso a me basta semplicemente collegare un cavo di alimentazione e già si accende tutto non ci sono cavi volanti non ci sono fili di alimentazione volanti è tutto molto funzionale tutto molto pensato per arrivare sul palco collegare una spina collegare un jack e sono già operativo cioè tempo di montaggio un minuto un minuto mentre chiacquero con gli altri quindi è veramente molto molto comodo tra l'altro facendo così con questo tipo di collegamento riesco a tenere libero in questa zona qui l'accesso all'ingresso usb che per chi naturalmente utilizza sistemi digitali e quindi va a interfacciare la pedaliera con un portatile è fondamentale e sono molto contento di questa soluzione quindi ragazzi spero di avervi spiegato nel dettaglio qual è la filosofia di costruzione qual è la filosofia di progettazione che ho utilizzato per realizzare questa pedaliera quali sono le possibilità che mi dà quali sono che praticamente sono infinite sostanzialmente sono infinite perché è un sistema ibrido analogico e digitale che può funzionare in qualsiasi condizione che mi consente di avere due segnali in ingresso completamente differenti e tre segnali in uscita più l'uscita amplificatore quindi veramente c'è nel senso posso fare qualsiasi cosa ho un pedale d'espressione e niente quindi più di questo penso non si possa chiedere a una pedaliera in più è molto bella e quindi grazie a tutte le mie personalizzazioni alle mie vitine colorate ai miei topper colorati eccetera eccetera quindi ragazzi spero di avervi spiegato nel dettaglio e in maniera più chiara possibile tutto quanto se avete domande se avete dubbi naturalmente commentate il video io cercherò di spiegarvi ancora più nel dettaglio se magari per qualche cosa non sono stato chiaro inserirò in descrizione tutti i link al configuratore all'azienda che distribuisce che la gold music che saluto e che ringrazio che distribuisce appunto rockboard a chi mi realizza i topper a chi mi realizza le viti dove sono andato a prenderle eccetera eccetera e niente quindi spero di essere stato molto chiaro e di esservi stato utile in qualche modo e magari di avervi fatto ragionare su alcune cose che potrebbero tornarvi utili detto questo quindi non mi resta che salutarvi a presto buona pedaliera per il 2024 e oltre a tutti quanti a presto buon divertimento buono studio buona musica e soprattutto be sure life ciao a tutti ragazzi